Sequestro di persona, spaccio di stupefacenti, minacce e tentata estorsione sono le accuse per le quali un 28enne di Prato è stato arrestato dai carabinieri di Pistoia che lo hanno preso in flagranza mentre cercava di costringere la fidanzata di 23 anni a farsi consegnare dei soldi che a suo dire lui aveva speso per lei per procurarle la droga da quando stavano insieme. Per ottenere quanto riteneva gli fosse dovuto il 28enne prima avrebbe costretto la fidanzata a girare filmini porno da vendere a qualche sito specializzato in video hard, poi l'avrebbe iscritta ad un sito per incontri sessuali a pagamento con lo scopo di costringerla a prostituirsi. Per tenerla nel frattempo sotto il suo stretto controllo le aveva sequestrato il telefono cellulare e la teneva prigioniera in casa impedendole di uscire senza di lui temendo che potesse ribellarsi e chiedere aiuto. I carabinieri di Pistoia sono partiti da un episodio avvenuto il lunedì di Pasqua a Montale quando alcuni testimoni che avrebbero assistito alla tentata estorsione nei confronti della ragazza chiamarono il 112. Raccolte prove e testimonianze i militari le hanno depositate in mano alla procura di Prato visto che i reati contestati si sarebbero consumati in casa del giovane dove la ragazza era andata a convivere dallo scorso febbraio che ha chiesto e ottenuto dalla GIP del Tribunale l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare appunto per sequestro di persona, spaccio di stupefacenti e tentata estorsione.